Bene amici, dopo aver provato il Pro Plus, eccoci, Realme 12 Pro. Ho lasciato l'etichetta, se no li confondevo perché sono molto, molto, molto simili per non dire uguali, il che un bene sul posteriore perché questo materiale fa veramente gran grip. Recensione flash, ottimo, il sensore sotto al display, in confezione stesso, dotazione, quindi coverina molto bene, caricatore sempre 67 watt, 0-100 in poco più di 30 minuti, batteria la stessa, 5000 mAh, il display lo stesso, l'ottimo Super AMOLED da 6,7 pollici, tante opzioni, buona la qualità di visualizzazione, ma già state vedendo che qualcosa cambia perché lo sto utilizzando e qualche lentezza in più, qualche lag in più c'è. Perché la differenza qua sostanziale, avete visto anche adesso a tornare verticale dall'orizzontale, è il processore. Qua c'è lo Snapdragon 6 di generazione 1, sempre processo produttivo a 4 nanometri, ma non decisamente, un po' più lento, ve lo quantifichi in un 20-25%, il che nell'uso quotidiano non è che cambia tanto, se non avere qualche laghettino in più, qualche secondo in più di attesa, veramente nulla di drammatico, nulla di trascendentale, sempre bello il feed della vibrazione, sempre ottimo il sampling della tastiera, del touch, la frequenza proprio di sensibilità delle dita, quindi molto veloce a scrivere, non si perde un colpo ed è anche preciso, ma vedete, in questo caso TikTok, anche prima ho dovuto aspettare un pochino di più l'apertura di facebookofferte.club, abbiamo il canale Whatsapp, mi raccomando, se volete fare affari, oltre a scaricare l'applicazione, scrivetevi là, sono due ovviamente usi alternativi. Insta360, l'ho provato anche qua, quell'applicazione molto processorecentrica per andare a editare video, è tutto un po' più lento, quindi bisogna avere un po' più di pazienza. Altra gran differenza sta nel comparto fotocamere, perché qua la principale rimane da 50 megapixel, con la stabilizzazione ottica, il che a questo prezzo comunque non è poco, c'è la zoom fisica, però è solo 2x32 megapixel invece che i64 periscopica 3x del Pro Plus, e poi la grande angolare è la stessa, 8 megapixel, 112 gradi. Le opzioni della fotocamera sono le stesse, magari andate a vedere l'altra recensione, dove sono stato un pochino più specifico, ovviamente le fotografie, soprattutto quelle zoom, sono diverse e ho fatto le stesse fotografie che avevo fatto con il Pro Plus, così potete andare anche sul blog, perché io ho comunque un blog dove magari le foto riuscite a vederle meglio e le potete confrontare. La macro, questa naturale, effetto bocche naturale, ha un po' meno bocche, la grandangolare uguale, la principale, davvero, sono lì anche come trattore di colori, che mi piace particolarmente su questi Realme. Quando andiamo a zoomare, ovviamente qua si perde, se il limite per fare belle foto qua è lo zoom 20x, qua il limite è un 5x, però anche l'HDR è uguale, anche questa foto è generalista. Ecco, quando sono andato a utilizzare lo zoom per la street photography, tanta differenza. Questa foto qua, per esempio, è sovraesposta, questa foto ha meno effetto bocche di sfondo, il punto scatto è stato meno incisivo, la cama anteriore un po' più bruttarella, non so perché qua ha totalmente, questo è fatto con la cam posteriore, bocche, selfie, completamente sbagliati i colori. Insomma, un po' peggio anche nei video, e se nella grandangolare è un opera, la differenza non è grandissima, perché sostanzialmente sono le stesse cam sulla zoom, la differenza è grande. L'altra differenza è la durata della batteria, perché se con questo sono arrivato a sera, 30% con uso stesso 4 ore di display, qua 3 ore e 21 minuti con il 20% a sera. Quindi una batteria che dura meno, perché il processore, per garantire comunque le stesse prestazioni, deve spingere un po' di più, tant'è che lui scalda un pochino di più rispetto a lui nell'uso quotidiano. Ripeto, nulla di trascendentale, anche con lui ci si riesce a fare tutto, ma se qua si possono anche utilizzare magari giochi spinti, processore centrici, applicazioni processore centriche, qua, quell'utilizzo ve lo sconsiglio. Dal punto di vista audio è uguale, gli altoparlanti sono uguali, il dialer è uguale, sente bene sia la voce sia la ricezione. Anche qua non c'è la sim elettronica. Audio, buono, alla stessa maniera, in tutti e due non c'è il jack delle cuffie, anche il GPS, eccetera, eccetera, tutto uguale. Quanto costa? Molto semplice, lui costa 100 euro in meno del Pro Plus. E vi do la mia visione. Se comprerete al lancio, quindi 299 euro, la versione 8256, secondo me, se non avete esigenze esagerate, se non vi dà fastidio qualche lag ogni tanto, è assolutamente una buona scelta, se non ottima, perché 299, uno zoom ottico, una buona fluidità, un buon utilizzo generale, insomma non se ne trovano tantissimi. Mentre la versione 12.512, 399 euro, è vero che c'è tanta memoria, ma la memoria non influisce sui lag e sulle prestazioni, influisce su magari quante applicazioni possiamo tenere aperte la RAM e quante foto o video possiamo immagazzinare. Forse 399, comunque preferirei lui, che costa 399, la versione Pro con meno memoria 8256, ma ha delle prestazioni un po' più elevate. Lo scalino prestazionale è, ripeto, 20-25%, spero di avervi dato tutti gli elementi utili per fare una scelta consapevole, ma tendenzialmente Realmea questo giro ha fatto un ottimo lavoro con entrambi, soprattutto dal livello proprio usabilità quotidiana, grip, design e piacevolezza generale. Ciao! Grazie! 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 Grazie!